E' come Michael Jackson, cambia a seconda delle opportunità Comunque c'è Draven top col Grasp C'è l'unico che era giusto in un ruolo, no Draven è top col Grasp E sono Senna Luxpot Chi vuole farmare? Io, con la spada cattiva Vai vai, io prendo l'oggetto Senti andiamo a fare subito l'invade che non ho ancora i picchiati del loro jungler Prendo lo Spectral, 5 di AD, l'altro mi dà 3 di AD No, prendo questo da 5 di AD Non l'ho mai provato Ok Io sto guardando il blu Bravo, bravo Un'ottima idea Infatti ho spottato Trinna per vedere Ottimo Poi andiamo dopo A real challenge Eh Eh Ti rendo a sberle Pesce maledetto Ok Il flash 30 gold Easy 30 gold Ho il slipper questo qui, sono un genio Bah Ma ti rendo a guardare il giro Oh no, qui c'è il genio Eeeh 3 flash, 4 Ormai bisognava Ormai bisognava Vabbè X flash Easy Vagar Finga il blu Ma che è Ah, il jungler Riven Io non capivo perché B fosse top Ma B non è il jungler Ma Vagar Che finga il blu Blu Ma in direzza Adesso magari scrive anche Le portaglie Eh, eh, eh Eeeh Copiate sto lezzo Cute I need level Si giustifica anche Però avevo preso un po' Il buff Giusto Mi serve il livello Altrimenti te l'avevi lasciato Mi serve il giocare Allora Ma quella se ne è incattivita Metteremo sifoni In questa casa di merda Eh No Mi hai ammazzato Ma come ti ho ammazzato Perché sei morto Perché era un mio struttavo È arrivato un flash da qualche parte Qualcuno ha flashato LOL LOL Non sa se fare lupi o no Ha fatto solo due campi È indecisa È una tosta relica Dio mattone Dio yogurt Dio banana Eccola lì Ma di diverse che ho detto Ah noi abbiamo Vai top abbiamo Eh Contro Draven con il grasping Perfetto Che cosa è questo Ma è stato super super forte Ouch No 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 wow Eh ma guarda qua dove cazzo è fightato Sì certo Ammazzava anche un bot Però però No 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 Sono forti La sende è brava Guarda che mi ha fatto uno snipe su di me E lì era No non qui Intendo prima Cioè tu hai ingaggiato Lei ha avuto l'intelligenza giusta Di me Di tirarmi la E di colpirmi Per me è incazzata Guarda che c'ha scritto Subnormal Vabbè sono spagnoli Stanno flammando Tutto nella norma Noi vinciamo al 6 comunque Il 6 è il nostro momento Ricordatelo Se facessimo un giro E ingaggiassimo per te Col creator Quando vuoi Vado E' pronto Cosa qua mi senti pari Beh Lux è vicino Ottimo E.L È simoniosa Lei rimane il cooldown uguale L'accuno Backspeed Guardala Spaventatissima Spaventatissima Eh Guarda che non si molesto Dai ma anche guardato qua dentro Ma che cazzo No non lo so se è guardato Suppongo di sì Comunque servono un sacco di Di trinket Rosse Ora li lasciamo Lei ha finito il mana Possiamo fare i bulletti Credo L'altro non è molto avviso Non ti fai autoattaccare gratis Vabbè È gratis Possiamo prendere i trinket rossi qua Eh no 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 Stai 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 Nei abbiamo il flash Possiamo fare Il flash Io ce l'ho tra 5 Tu tra 4 mi pare Io c'ho l'ex Ah si ce l'ho Possiamo flashare in cattività Su direi Adesso volendo Non so se Stai avvicinando al CS Ci vado No Non ho messo la Q Direi che sta andando back Eh si che sta andando back C'è anche già andata Eh si Tocca andare back Vabbè Io faccio un'altra wave Fammi valutare Cosa prendere contro i loro Vai Mobility cattivi Perché no Trinket rosso Che ho già capito Contro i loro serve Anche una pozza Le Non ho ancora fatto Il giveaway dei regali Il cannone di sandas È troppo piccolo Oddio Non ci ho fatto caso Sinceramente Vabbè Comunque Drive in top Non sta funzionando Molto bene Mi spiace per lui Eh Però il farm È lì Lì Cos'è quello start Che hai fatto esattamente Non so Mi piacevano Ok Eh E poi puoi fare la team Mentre fai la trottola Senza interromperla Scusa ma se gli ho doggiato Tutti gli stun Com'è possibile Che mi abbia one shotato Non comprendo questa cosa C'è un papironi Mangia un po' qua Vabbè Eh Oh Adesso guarda Non è in giro Ma guarda Che cosa è passata qua Guarda Io purtroppo Non c'è ancora La trottola Oh no Sì ma guarda Quanto stun defensive Ma che so Steeper made Bastard Sono delle fusti enormi Mamma Ma Ottimo Ma la ultima Non ce l'aveva Perché non hanno altato Aveva paura Vorrei scappare Immagino Se prendi un minion Ho la ulti Prendi un minion Ma che Un pallone Possiamo bevare In maniera un po' buzzurra Però Andiamo Vabbè Abbiamo preso i flash Adesso sarà più easy Questa mi ha insta flashato Comunque Anche Senna ha già flashato Ah tu intendi Senna Vabbè Per me non è normale Con questa Senna No 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 Si è andata a giocare Cioè non è Non è forte Ma non è iron Quelle poco ma sicure Andiamo Senna Senna è silver 4 Entrano per silver 3 63 win 82 lose Ma Spesso gioca Senna E le perde quasi tutte Non so che dire Questo game è un fenomeno Ha vinto un game su 9 Vabbè Ema è ispirata Era il cugino Molto ispirata a sto game Sai no Ha scoperto un nuovo amore Ogni engage di frago Ha la limite dell'inting Sai che hai ragione No era ok Più o meno Ma che c'è qua Amigo Che noia Ma Ha ultato No non ha ultato Non so se non aveva la ult R I C K Porco 2 7 mesi L'usperiae Vabbè Grazie Cree 7 mesi Bentornato a Felix Sarni Carissimo Porco 2 60 gold Ma come sono Non è guardato Lo sparano di continuo Ma che vuole questo Ma che vuole Veigar Ma scusa Veigar Che problemi ha esattamente Eh Ho perso il carro Insomma Arrivare la ulti di Senni Addio Invece no Stanno affaitando Quei bulldi Io vorrei andare Io vorrei andare Io ho 150 HP Beh sono più che sufficienti Per me non è il massimo Vuole andare back Prendere altre due spade E tornare Adesso torno E vedo Sì stanno giocando I Beyblade Ragazzi Ma in realtà È Ale che ha panicato Perché si è reso conto All'ultimo Che non c'era Era Zed da prendere Io mi sono dovuto adattare Allora guarda come corre Guarda lì Vroom vroom Fine Eh sì Dai il gank era un po' Così quasi Cos'era cosa ha scritto Dravenzonde Una ratta De Loacce È un insulto Quello poco non sicuro Smetti là Io vorrei mio farm Eh Volevi Le trottole Prima era ultato Quindi già Mi ha detto Miramento Rispetto al fight Guarda Guarda Spilling my way out Che cosa roba Ah no Come vanno indietro Sono incredibili Vieni qua Vieni qua Devi cercare di belitarli Io metterò Nice Guardi Sì Ma Ci arrivi Eh Mia Arrivederci Allora mia Toccate fuga Posso ancora provare Dagli Dagli fastidio Dagli fastidio Guarda Se ne vanno Ma così che giocano Loro Guarda Non escono dalla torre Oh Eccomi Eh vabbè L'Opv Ha portato più avanti Che dietro Oh Ok Flash Attenzione Che fa danno Loro è così che gioca Tu hai 200 HP Tu hai 200 HP Loro comunque Non escono dalla torre Anche se hai 200 HP Aspettano che tu ti spazientisca E poi fai una cazzata È il loro modo di giocare Sono 200 HP Dicono tanto Noi ci divertiamo così a giocare Quindi noi aspettiamo tutto il tempo Senza problemi Funzionato però Ragazzi funziona così Se becchi contro Le persone come noi Che non hanno la pazienza Di stare lì Ad aspettare Di vincere sul farm Eccetera Vincono Perché Noi giochiamo a League of Legends Non a tua rete simulator E Prima o poi ti spazientisci E dici Vabbè Vogliamo daivare Perché non se ne può più E loro li ti ammazzano Perché Basta Ragazzi È la dura vita Per pescare Bisogna avere pazienza Ragazzi Per imparare a giocare Contro sta gente Bisogna imparare a pescare Se fai il pescatore Ce la fai benissimo Contro di loro Stai fermi immobile Finché non ci cascano Ma succede in mid? Questo Draven però non scherzo No 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 A livello di inting Intendevo Sì E sai che roba che ha fatto Il flank Sì esco E' ancora vivo Draven Ci ha fatto la kill E se è riuscito a scappare Sì sì Ha fatto roba Next level Ma si è rapato No I motifiri pescatore Report Draven Ha fatto una kill Adesso lo dici Perché lui c'è morto Proprio la stanzata Quindi è arrabbiato A casa Chi PG? Di chi parli? Allora Di loro due Così così Devo andare via Da questa lenti Prego Non mi sono Lo so Ti capisco Non posso più nemmeno io Non ho la ulti Guarda Guarda Lì Guarda dove gioca Guarda Guarda Vieni qua Aspettiamo che push O prima o poi ci arriveranno A nostra tour Se noi non ci siamo più Però non passare da lì Ti vedono Eh push Questa vuoi vivere Se ti aspetta Ecco Vediamo Prima o poi ci arriveranno Secondo te Maglioni sì 14 secondi Tecnica del pescatore Eh però quel trend Non mi piace Lì al drago Vieni vieni Andiamo Oh qua l'azione C'è per forza Sono in quattro Allora No ma Ma proprio pesce È meglio Così c'è ancora la ult E Oh Hai visto che sono uscite Dalla tana Hai visto che sono uscite Dalla tana E colse Ecco Hai visto che sono uscite Dalla tana Tecnica del pescatore Tecnica del pescatore Bastava solo quella Non lasci per il mana Va bene Grazie Ole Ti stai Ascendo un carito Quei allucina Smile Mi sta carriando Rientri Un carito Eh più o meno Penso che intenda Senna esordisce così Pathetic team Oh grande Senna Se solo giocassero tutti safe Come te Di certo Adesso lo scrivo Aspetta Devo flammare Anche se non vuoi Pathetic Vai vai Play style Diglielo cazzo Diglielo E niente Siamo qui E aspettiamo Mi orferi Per me non ci cascano Ah poteva restare Efficianti Per un altro po' Tanto almanso ti trovava Una E-Lux E basta Gare vu Con boss Picks off Play style That no sense Capito? Parole dure Prostra Sì C'ha la metà Del farm Lei comunque Io sto fermo Ok Fai un passo Verso i loro Guarda Fai un passo Verso i loro Vedi come si indifreggiano Guarda Aiuto 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 Ecco qua Sì Ha flashato No l'aveva Flash Senti Io vado a mandare un messaggio Altrimenti non si avvicinava Vado a mandare un messaggio Aspetta Sappi che non ci sono Minion Però adesso Ho guardato anche qua Mi sa sai Ma sicuro Guarda 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 Patetic team Guarda 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 È l'inibitore Forse È vero Ci avesse anche 50 È andata È andata È andata È andata È andata T'ho detto Tecnica del pescatore Tu non hai fatto il pescatore Per adesso Cosa Si è arrabbiatissima E cazzo Un po' di rispetto Omofoba Un po' di rispetto Mamma mia Proprio del gay come offesa Capito Nel 2019 Del gay come offesa Pesante In effetti Ma Ma Ah LSD Gandalf Grande LSD Gandalf Quella Riven Pazzare Bella Simoteo Bentornato A Felix Army Simoteo Grazie Della Re Sub No no Non le monestiano Le donzelle Anzi Dopo quello che ha scritto Non merita Per rispetto Chiusa il gay come insulto Nel 2019 Boh Ecco Edz Merita di sottornare Merita Edz In chat hall L'ho aggiunta agli amici E li doi anche scrivere Edz Merita un pathetic playstyle Pathetic playstyle By the way Grazie Lost Tweak Benvenuti TW3H Sottolineatura TV Sto stando Con 7 viewers Mamma mia Certo che anche Trinda Non scherzava Sono stati Gamecon Sarei for Triven Ma Weger è ripetissimo Comunque Sì Boh Sontava in spagnolo Weger non ha fatto Assolutamente nulla In sta partita